Che emozione è tornare su questo tappeto rosso nella serata che celebra? Torno a distanza di un anno, torno a distanza di un anno, quindi diciamo mi sembra di essere, come dire, che sia volato quest'anno. E invece sono successe tante cose, insomma, ecco, nostalgia, è stato a Cannes, poi ha avuto una vita internazionale molto bella, molto intensa, e quindi, ecco, quindi diciamo sembra passato in un baleno. Ma qual è lo stato di salute del cinema italiano secondo lei? Ma direi molto buono, no? I spettatori stanno cominciando a tornare in sala, i film sono belli, quest'anno ci sono tre importanti film a Cannes, quindi insomma mi sembra molto buono. Anche stasera c'è tanta Napoli, ma ce lo puoi dire come ha festeggiato questo scudetto? Sono stato molto fortunato perché avevo uno spettacolo teatrale a Napoli nel periodo dello Scudetto, quindi l'ho fatta proprio tutta, da domenica alla prima domenica con la Salernitana fino alla domenica con la Fiorentina, non ho perduto il festeggiamento.